Ritengo che l'intero Consiglio Culturale di Chiesa e Debatt prende delle distanze dalle parole propositate che sono state espresse e che hanno oscurato il senso stesso della manifestazione pubblicata. Auspico un intervento di stigmatizzazione in crisi tra i cambiamenti di Chiesa con l'allontanamento del loro componente ed auspico che a tutti i livelli, non solo politici ma anche istituzionali, venga ricettata in toto l'idea che la politica intesa in senso lato si basi sulle offese personali piuttosto che sulle idee. Grazie. E brevissimamente, visto che ha citato il fatto che alcune persone presenti in quest'Aula erano appunto presenti nella manifestazione e io ero una di quelle persone ma volevo solo specificare che la mia presenza in quel luogo non vuol dire assolutamente che contintessi le parole di lente che sono state espresse e dalle quali assolutamente mi risotto e ci risociamo. Grazie. Grazie. La ritirà lo che vuoi chiedere al nostro libro. Grazie.